Io mi chiamo Monica, con l'applicazione della Divine Connection ho fatto parecchio, ho sciolto parecchio, sono molto più tranquilla, ho meno controllo. Quello che viene, viene. Il tutto è più sereno. Patrizia è molto brava nei suoi corsi, è diretta e comunque ti fa arrivare al punto. Cioè se tu hai dei problemi che dici no ma io questo non l'ho capito, lei comunque con anche solo una domanda o una richiesta che ti dice ma hai fatto questo, hai pensato questo, tu arrivi a risultato. Dunque meglio di così non si può chiedere. Consiglio questo corso e l'applicazione della Divine Connection perché comunque, vabbè, io devo dire che mi ha reso felice. Ho meno blocchi, meno ansie, sono più leggera. Sì, un abbraccio fortissimo, ringrazio tantissimo tantissimo Patrizia e alla prossima perché tanto penso proprio di esserci.